segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te presidente come sta la vedo un po nera e te credo è stata una settimana impegnativa è come se avessi perso 30 anni abbiamo visto anche andata dal parrucchiere dopo che insomma ma sai che non me lo ricordo ma come non si ricorda quella foto uscita dappertutto pure sui giornali sei tanto carino è ammazza che non le va tanto di parlare del suo ex no no non c'è nessun problema guardi in questo caso buttiamoci sul lavoro parliamo della manovra finanziaria va bene come insomma avete aumentato l'iva su assorbenti e prodotti per l'infanzia ecco che segno volete mandare con questa manovra lui è toro toro no nel senso che segno volete mandare con questa manovra cioè io speravo nella bilancia dico la verità e salvini come l'ha preso questo rinforzamento della legge fornero immagino non benissimo visto il carattere che ha però pure andrea guarda che non è un carattere facile andrea andrea è capace di stare tre giorni muto e tu non sai neanche perché presidente mi scusi ma non mi sto dando neanche mezza risposta sulla manovra finanziaria no e no e di che parliamo sai che forse parlare di andrea non è male abbiamo provato con quelle domande poste da alessio marsiglia alla premier Grazie mille grazie mille grazie mille